Roberto Cappellacci resta al suo posto, almeno per il momento, almeno per altri sette giorni. Dopo una lunga giornata fatta di incontri, scontri, prese di posizione e chiarimenti, il trainer di Giulia Nova salva la panchina rosso-blu e lo fa con l'appoggio incondizionato dei suoi ragazzi. Tutta la squadra si è schierata con lui. Meno convinta era buona parte della società che dopo il pesante K.O. subito nel derby contro la Regina avrebbe voluto dare uno scossone. Già dalla mattinata di ieri in Rivalcrati circolavano diversi nomi di superamento, da Carlo Sabatini al clamoroso ritorno di Tommaso Napoli. Nel mezzo però c'era lo scoglio del biennale firmato da Cappellacci e dal suo staff da superare, una cifra che si aggirerebbe intorno al mezzo milione di euro. E allora nulla di tutto ciò. Il club silano ha vagliato i pro e i contro delle sonore e alla fine si è deciso di confermare la fiducia all'allenatore, anche se ufficialmente è stato ribadito che non era in discussione allo staff tecnico ma che dopo le ultime negative prestazioni del Cosenza sarebbe stato impossibile non affrontare la situazione di petto. La società Cosenza Calcio, si legge in una nota diramata in tarda serata, comunica che si è tenuto un incontro tra il presidente Eugenio Guarascio, il direttore sportivo Mauro Meruso e il tecnico Roberto Cappellacci. Si è discusso della situazione non facile che il Cosenza sta attraversando e degli impegni che attendono la formazione rosso-blu in questa settimana di Cappa Italia e campionato. Al termine della riunione presidente, direttore sportivo e allenatore lanciano un appello all'ambiente, alla tifoseria e alla squadra finalizzato a ritrovare compattezza e coesione per superare il momento critico. Domani subito il banco di prova contro il Catanzaro in Coppa Italia, anche se la vera prova del 9 sarà quella di sabato prossimo contro la Paganese. Sulla panchina rosso-blu ci sarà Roberto Cappellacci, almeno fino a quella data.